Capodanno fuori casa per due delle otto famiglie che abitano nello stabile di via San Francesco a Ponte Cagnano-Faiano danneggiato parzialmente dalle esplosioni avvenute all'alba in uno degli appartamenti per una fuga di gas se buona parte di loro non hanno subito danni di rilievo alle abitazioni per le due famiglie che abitano al di sopra dello scoppio si è reso invece necessario lo sgombero dopo lo spavento per il traumatico risveglio anche le preoccupazioni per un capodanno da dimenticare adesso non lo so non ce l'ho dove vado non lo so vediamo che possiamo fare non lo so una forte esplosione siete svegliati sì una forte sì e poi si è alzato poi sì siamo usciti solo con la pigiama senza niente tanto fumo tanto spavento cosa avete pensato sì sì abbiamo io ho pensato tremuto però non è così sì non è così però grazie a dio siamo bene la casa non possiamo adentrare perché è tutta aperta dentro però che senti siamo bene questo è questo anche per le altre famiglie in ogni caso il risveglio non è stato facile si è pensato inizialmente al terremoto e poi invece il contatto con la realtà svegliati da questa esplosione cosa avete pensato che fosse stato il terremoto al fianco dell'abitazione ma anche voi che cosa vanno detto i vigili per quanto riguarda le condizioni dell'appartamento al momento dicono che è agibile però non so dirvi per certo sicuramente un capodanno insomma traumatico un'esplosione all'alba considerando che ho trovato il mio vicino in fiamme ma sono lei a chiamare i soccorsi? io e anche le persone di fronte sarei i primi ad accoggervi di cosa stava accadendo? sì 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 il comune di Ponte Cagnano Faiano in ogni caso si è attivato subito per trovare una soluzione alternativa alle famiglie costrette ad essere sgomberate garantendo anche la vicinanza ai familiari del 35enne ferito sul posto dalle prime luci dell'alba il sindaco Ernesto Sica vabbè indubbiamente è spiacevole poi purtroppo le condizioni del mio amico certamente non sono positive quindi l'auspicio è che arrivano notizie buone nelle prossime ore sicuramente poi le famiglie staremo vicino e troveremo un alloggio nei prossimi minuti si è attivato insomma per avere una sistemazione? è questa mattina presto quindi sicuramente non lasciamo nessuno indietro è dovere nostro fare questo è dovere nostro stare vicino ai familiari del ragazzo e quindi sono fiducioso spero tanto preghiamo per lui